Ok Ciro, fai un po' il cameraman Ciao a tutti ragazzi Come promesso È arrivato il momento del collaudo Andiamo Ciao a tutti 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 Siamo al collaudo del Patriop Un è un'auto costruito dal sottoscritto Nelle mani di Mario Pista e Nanciuli Ecco fu pronti per il collaudo Che non c'è una vant' di buona Sto facendo il video, sta registrato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come è di bilanciamento? Perfetto. Primatura? Un po' di capo ho dato. Grazie a tutti. Immobile, sensibile, nervoso. Bisogna ridurli. Te li riduco. Solo bel farinato. Alettone? E cabbio e piccia. Vai. Mario, puoi fare anche un passaggio più basso, a piano? No. Io ti dobbiamo stare alto perché non facciamo il movimento. Io adesso mi devo averci. nervoso, eh? Come è adesso di... Ma è lui che sta, è lui che ci sta divertendo. Mario, non affondare così. No, affonda lui. Aumentami il capra. Affonda lui perché l'hai stretto troppo. Affondarsi di sé. Ricordiamoci che abbiamo un'ala a freccia, abbiamo un profilo tiralontano, di confesso simmetrico. Ehi, puoi trovare? No. A terra che rifacciamo il pieno e faccio un volo io. Ok. Allora, davanti a noi, si dà giù i carrelli. Piano via, vedi? Non stringere troppo, è normale che... Non lo tocco per dire. Aspetta. Vai, vai, vai. Passare avanti, vediamo se sono usciti tutte e tre i carrelli, come al solito, un controllo non fa mai male. Sì, ci sono tutti e tre. Ci sono, ci sono gli obiettivi. Sì, ecco, grazie, grazie. E va. Vieni, vieni, Mario. Vieni con motore, tranquillo. Benissimo, puoi togliere già tutto. Togli tutto, togli tutto. Bella! Bella! Smolta, smolta la velocità. Complimenti, Presidente. Continua di prima, per il giro. Vieni, portalo qua. Non lo spegni. Per il secondo ha piaciato. No, vabbè. Quello che dice? Eh, non voglio dire. Eh? Non voglio dire. Eh, non è buco, ma, eh. No, no, notor. La velocità. Grazie! In fabbri. Toglonto! Eh... Grazie a tutti. Grazie a tutti.